Con la nuova collezione Primavera-Estate, Timberland cambia look. Il nuovo corso lega le donne allo stile metropolitano. Per questo abbiamo creato Timberland Swomen. Un'iniziativa che coinvolga il target usando tutti i media. Ed un concorso che spinga ogni donna a raccontarsi come una donna Timberland, scegliendo un nuovo look tra quelli delle tre fashion blogger oppure creando un personal total look. Sul mini-sito dedicato all'iniziativa abbiamo dato la possibilità di scegliere e vincere un look o di entrare nella fitting room per creare il proprio. Abbiamo organizzato uno shooting ad hoc per raccontare i tre total look scelti per le tre diverse donne Timberland. In più ogni fashion blogger ha mostrato il look scelto con un post sui blog e sui suoi social. E on field, un esclusivo evento durante il Design Week Festival per celebrare l'iniziativa con oltre 12.000 partecipanti. L'advertising ha avuto una comunicazione ad hoc, on web, on print e on radio. Scegli che donna essere con la nuova collezione Primavera-Estate 2014? I risultati unici. 2.050.000 impression, 35.000 utenti unici, oltre 7.000 iscritti e più di 20.000 donne Timberland.